Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo video, un saluto a tutti da Max, torniamo a parlare ancora di Grande Fratello VIP. Prima di farlo, mi raccomando, se avete piacere potete lasciare un bel pollicione in su sotto questo video e niente, praticamente si sta avvicinando il momento tanto temuto, ma perché temuto? Si parla di un'esperienza senza precedenti, quella vissuta in generale dagli inquilini della casa più spiata d'Italia che stiamo in qualche modo seguendo. Partecipare al Grande Fratello VIP, diciamo che rappresenta sempre una grandissima sfida, che mette i concorrenti faccia a faccia con se stessi, cercare di sopportare gli altri, cercare di sopravvivere in qualche modo con caratteri che non sono gli stessi propri, quindi ci si fa un confronto in continuazione e tanto tanto altro. Ma come ogni gioco, il finale si appresta e il momento del televoto per molti è anche l'atto decisivo di fine corsa. Come ogni settimana, ecco la domanda posta ai fan del programma, ma chi vuoi salvare? E lo dicono sempre, no? E fanno vedere, negli stampini ci sono le immagini con le persone. Sondaggio Grande Fratello, chi vuoi salvare? Quindi tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita. I due geffini sono praticamente stati spediti al televoto. Nelle ultime ore si può dire che le vicende in casa del Grande Fratello hanno decisamente scosso gli animi. La furiosa lite, ad esempio, tra il conduttore radiofonico e l'extronista è stato decisamente un momento televisivo che ha lasciato schierare nettamente il pubblico. Ma da che parte, però? Sto parlando del momento in cui Charlie Gnocchi pare abbia strattonato Daniele Dal Moro nel bel mezzo dell'acceso confronto tra i due. Ed è stato un momento che non ha giocato proprio a favore di Charlie, accusato proprio di aver messo le mani addosso al coinquileno. E in vista del televoto, quanto avrà quindi pesato il suo atteggiamento? Stando al portale di Gossip Bici, pare che questa settimana sarebbe proprio Charlie Gnocchi ad avere la peggio in sfida al televoto con Attilio Romita. Infatti, stando sempre a questi dati raccolti, il sondaggio di chi vuoi salvare praticamente si posiziona al primo posto Attilio Romita con un 65% pari a quasi 450 voti contro il 35% pari soltanto a 237 voti. E quindi, insomma, si fa presto a capire, no? Ma parlando del fortunato al televoto, beh, almeno per ora. Di recente non può dirsi abbia avuto vita facile. Infatti, non appena Sara Altobello ha rivelato di essere attratta dal giornalista, questo pare addirittura abbia deciso di cedere quel tanto che basta per mandare su tutte le furie la compagna Mimma, Mimma, no? Ne abbiamo parlato anche in questi giorni, che ovviamente ha visto tutto. E questo, cari amici, è tutto per questo piccolo video. Io vi ringrazio per l'ascolto, se volete condividete con i vostri amici. Noi ci ritroveremo per un prossimo video informativo su, mica solo su Grande Fratello VIP, ma anche su questo e tanto altro. Mi raccomando, io vi aspetto per un prossimo video.